Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avare vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel cassino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, capirà la crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi finirà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E per fin la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea snella digiunando s'ospirò. Ah, la crisi, oh, signor, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà. Grazie a tutti.